Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giancarlo Pinto e assieme al professore Lino Celoria abbiamo deciso di mettere a disposizione della biblioteca universitaria una serie di lezioni sulla fotografia. Questa collaborazione ne viene da un accordo tra l'università, il polo della fotografia e la biblioteca universitaria, dove abbiamo uno spazio nella biblioteca universitaria dove facciamo delle lezioni, è già otto anni che teniamo un corso di base di fotografia, mentre al terzo piano abbiamo allestito un museo della fotografia con una serie di elementi molto interessanti. Vogliamo qui parlare della pellicola fotografica e di conseguenza però non tratteremo del daguerotipo, della cronotipia e tutte delle parti prima, ma partiamo direttamente dalla pellicola. Dopo vari esperimenti appunto George Hestman nel 1889 creò la prima pellicola trasparente che prese diciamo così come spunto le pellicole che erano le pellicole per il cinema. Hestman fondò anche poi l'azienda che diventerà la Kodax dove praticamente le pellicole svilupperanno direttamente l'immagine. La pellicola è una composizione formata da allogenuro di argento disposto su un supporto trasparente rivestito da una gelatina che poi viene messa all'interno di un supporto e questa inserita nella macchina fotografica permette di scattare una serie di immagini. Il trascinamento viene fatto attraverso questi piccoli buchini che sono a lato e le strisce verticali indicano la differenza tra un'immagine e l'altra. Di pellicole ce ne sono di tanti tipi. A seconda del formato 110-126 le vediamo nella fotografia sotto che sono fatte per una macchina particolare, cioè dove il negativo passa da una parte all'altra arrotolandosi e però rimanendo protetto da questo involucro. Poi ci sono le 135 che sono le 35 mm, cioè le 24x36, la classica rollino che viene adoperato per le macchine fotografiche. Mentre poi a destra vediamo quelle più alte che sono le 120, cioè anche le 6x6, 6x7 o 6x4,5. Nella fotografia sopra vediamo il nostro museo dove abbiamo raccolto tutta questa serie di pellicole e dove vedete anche lì al centro la parte che serve per comporre queste pellicole e quindi poi per riuscire a metterle nella macchina fotografica e scattare le fotografie. Ovviamente prima di inserire la pellicola bisogna controllare la sensibilità di questo rollino che è in ASA, DIN o ISO. Le pellicole, quelle che avevano il nastro che poteva fare delle diapositive, erano di 50 ASA, mentre invece quelle normali erano sui 100 ASA e invece quelle che si usavano per fotografie più al buio o con velocità di luce andavano sui 400 ASA. Finito di fare le nostre fotografie, passiamo allo sviluppo. Vediamo qui in breve successione le fasi. Le fasi del processo del negativo sono l'impressione, quando il negativo si trova dentro la macchina fotografica, lo sviluppo, quando il negativo si trova dentro il tank, che poi appunto viene alternato con un arresto e con il fissaggio, sempre quando si trova dentro, e poi l'asciugatura. Vediamo adesso le fasi in specifico. Il negativo è messo all'interno della macchina fotografica e ha una parte che è sensibile alla luce e di fatti lo vediamo nella fotografia in basso. Quando noi scattiamo la nostra fotografia, si apre e quindi la luce entra e va a impressionare il nostro negativo che è in fondo. E poi noi con il meccanismo di avvicinamento facciamo girare l'altra fotografia e la fotografia è una fotografia che viene detta nel gergo latente. Quando poi abbiamo riavvolto il nastro e abbiamo levato il nastro dalla nostra macchina fotografica, lo mettiamo dentro al tank, che serve appunto per sviluppare la mia pellicola. Il tank è un contenitore che è ermetico alla luce e attraverso quello, mettendo delle soluzioni all'interno, noi possiamo operare le fasi di sviluppo, arresto e fissaggio. Vediamo qui il tank, appunto questo contenitore nero, dove a destra vediamo come viene inserito i vari pezzi uno dentro all'altra. Noi avvolgiamo il nostro negativo attraverso la bobina, che è quella bianca, poi mettiamo all'interno del tank la bobina, mettiamo ancora sopra quel tubicino piccolo, chiudiamo con la parte più esterna e poi chiudiamo ancora con la parte del coperchio. Il coperchio servirà appunto a far passare la luce e a poter agitare il mio tank nei tempi che sono scritti sulla cartina del mio negativo, a secondo se hanno una sensibilità diversa o meno. Agitando il mio contenitore, il mio tank, per un tanto tempo, faccio in modo che questo passi gli acidi sul mio negativo e si sviluppi il negativo. Passato i tempi giusti, poi aprirò il tank e passerò alla fase successiva. La fase successiva è praticamente il lavaggio e l'asciugatura del mio negativo. Aprendolo, lo lascio per un po' di tempo sotto l'acqua corrente e quindi poi estraggo dalla bobina il mio negativo, lo appendo a un'estremità con queste pinze che sono fatte apposta, poi levo l'acqua in eccedenza con una pinza, con una piccola spugna, oppure come si faceva anche una volta, passando due dita con un colpo rapido lungo tutto il negativo e metto all'estremità opposta all'altra pinza in modo da tenere teso questo negativo. Poi o si lasciava per un periodo che asciugasse all'aria aperta oppure si poteva mettere dentro un mobile dove alla base c'era una specie di fond che dava dell'aria calda e quindi in più breve tempo si riscaldava e quindi si asciugava il mio negativo. Ovviamente il rullino si andava a comprare dai fotografi, ma si poteva anche costruire dei rullini con un numero di pose che erano diverse da quelle che si potevano comprare. Quest'operazione va fatta rigorosamente al buio. Si usava in genere anche oppure un manicotto, un manicotto dove entravano le mani e dentro si poteva agire attraverso la pizza, che è quella pellicola che praticamente viene, che era di 20-30 metri a seconda della situazione. Si adoperava dentro a questo manicotto anche l'attrezzo che era l'avvolgitore che mi dava, mi contava il numero di pose, potevano essere, io potevo farne anche dei rullini da 6, da 12, da 24, da 36, quanto volevo, e praticamente io avvolgevo questi scatti al nottolino centrale, che lo vediamo qui in basso a destra, quello dove praticamente si vede la pellicola in basso. Poi quando avevo fatto avvolgere un numero di fotogrammi che mi interessava, lo mettevo dentro all'involucro, lo chiudevo con i due coperchietti sopra e sotto, lasciandone un pezzo fuori per poter agganciarlo nella macchina fotografica. Ora il rullino era pronto. Ovviamente bisogna che mi ricordi, visto che sono rullini che erano riadattati, quindi rifatti da me, di scrivere sul mio rullino il numero delle pose e la sensibilità con cui l'ho composto. In ultimo, e qui vediamo il nostro laboratorio che abbiamo ricostruito. Come vedete in alto ci sono vari tipi di tank che contengono uno o più bobine, che per sviluppare contemporaneamente più rullini, poi sotto ci sono tutte le ampolle dove si mettevano i vari acidi. A sinistra abbiamo l'avvolgitore per contare il numero delle pose che volevo impostare sulla pellicola e anche lì vicino abbiamo le varie pizze che contengono i nastri e quindi questo è quello che noi abbiamo raccolto in questo nostro museo, che è appunto il terzo piano della biblioteca universitaria. Grazie e alla prossima!